È destinato a salire il numero delle vittime del rogo del Grenfell Tower, il grattacielo di North Kensington a Londra. Le autorità sperano che non arrivi a 100. Il bilancio ufficiale di 17 morti e 30 persone ricoverate in ospedale, 15 in condizioni critiche, resta incerto il numero dei dispersi. Le ricerche continuano ma non c'è speranza di ritrovare qualcuno ancora in vita, tra cui i due giovani architetti italiani. Montano rabbia e polemiche, anche politiche, per una tragedia annunciata. La polizia ha aperto un'indagine penale.